Ciao a tutti, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia, è inaccettabile. Il ministro Colosetto ha convocato l'ambasciatore israeliano, ha chiamato al telefono il suo omologo per lamentarsi dell'attacco subito dai soldati italiani nelle missioni Unifil sulle basi presenti nel sud del Libano, tre basi di cui due sostanzialmente di italiani, bombardati oggi dagli israeliani, dopo essere state sorvolate da un drone. C'è chi dice che è stato fatto volutamente per far sì che la missione Unifil arretri e insomma se ne vada via dallo scenario di guerra, ma è inaccettabile, non intollerabile come dice il ministro all'ambasciatore e come ha detto anche agli organi di stampa, inaccettabile perché in mezzo ci sono i soldati italiani e su questo non si scherza più. Si attendono ovviamente prese di posizione del capo delle forze armate che è il Presidente della Repubblica, ma ci chiediamo e vi chiediamo cosa sarebbe successo se a posto dei soldati italiani in quelle basi ci fossero dei soldati americani, avrebbero convocato l'ambasciatore israeliano e basta, avrebbero detto che è intollerabile e che cosa sarebbe successo se ad attaccare invece che gli israeliani fossero stati i russi o gli iraniani? come si sarebbero comportati? Pensate nello stesso modo? No cari amici, no perché questa cosa è assolutamente inaccettabile per un paese sovrano che manda nel mondo con le Nazioni Unite sostanzialmente per mantenere la pace i propri soldati, rischiare la vita così è assolutamente inaccettabile, continuo a dirlo, sarà il termine di questo video, il più utilizzato, so che non si deve usare sempre lo stesso termine ma lo continuo a usare, è inaccettabile Voi cosa ne pensate? Altra riflessione, dubbi sorgono a questo punto su tutto lo scenario di guerra condotto dagli israeliani, perché? Perché nel caso l'avessero voluto fare volutamente stanno attaccando un paese amico come l'Italia che sta cercando solo in quella parte di mondo di mantenere la pace ed è inaccettabile. Se fosse stato un errore allora ci chiediamo quanti errori stanno commettendo soprattutto i danni dei civili e delle popolazioni, il che potrebbe far perdere Israele parte dell'opinione pubblica che già vacilla su questo argomento. Ora la cosa è molto seria, è molto spessa e io spero che le autorità italiane la trattino ovviamente ha dovere. Israele non si può permettere di fare tutto quello che vuole, qui ci sono anche in mezzo le Nazioni Unite, ci sono in mezzo i nostri soldati, ci sono in mezzo le missioni di pace e non sono sufficienti le parole del Ministro della Difesa, servono atti concreti della nazione, della nostra nazione, dell'Italia a tutela dei nostri soldati e della loro vita. Questo è quello che penso io, voi scrivete la vostra nei commenti e come al solito ci vediamo domani.